Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Let's Player 199 e ti stiamo subito in avanti Un gioco che non vi ho fatto mai vedere, che davvero non vi ho fatto mai vedere In questo gioco fantastico, non lo so se lo conoscete, dovremo sconfiggere più dinosauri possibili uccidendoli con varie armi che sono davvero favolose Ora, se me lo carica, ok, quindi, spiegati, questo qui è Dino Hunter Deadly Source Ora, visto che dovremmo avere connessione, abbiamo connessione, ce lo dovrebbe fare Allora E voi vi stiate chiedendo che sto facendo questo video Perché Non ho mai fatto un viso del genere Ma non potrò iniziare una serie Perché io di dove andare non sono tanto Anzi, sono bravo ad uccidere Sono andato nella regione 2 Ma dobbiamo potenziare qualcosa E... e basta Ad esempio, la donna non sono... Eh sì, quanto tempo ci sto mettendo, cappero Ok... Abbiamo cacciato... Abbiamo cacciato... Oh, dai, è già due minuti Abbiamo perso tutto sto tempo Inutile 3 ore per caricarsi 3 ore per caricarsi Mamma mia Ah... Ecco, va lento Mi importa Ecco, va lento ogni volta che... Faccio un video su YouTube Andiamo in avanti E... Abbiamo un'energia Eh... Si blocca Lo sapete perché? Perché è colpa Di... Di... Di Mobizen Che è l'applicazione in cui sto usando Per farvi vedere il suo video Abbatti un anchilosauro Tipo... Questo! Potrebbe esserci molto utile Mi ha spiegato un'energia E... Già siamo a 3 minuti E 10 Dove... Vabbè, va bene Oh, no Oh, my God Oh... Questo anchilosauro è molto forte Secondo me Quindi ci potrebbe... Ecco, questo dinosaurio Mi sa che ci viene addosso Si sta voltando Infatti Oh, se ne sta... Ah, no Se ne sta scappando Credevo che si stava girando Verso di me Hanno il pericolo Solamente che scappa Non che vi attacca E dai, ce la possiamo fare Una missione buona su YouTube Vai! Oh! Grande! Il tronco abbiamo colpito Qui! Dai, cerce non è Tanto gioco extra Però guadagnate soldi C'è E sto gioco perché Sparare a tutti quei dinosauri Mi fa sentire un re Non lo so perché Sono a livello 12 Perché io Non mi dire che ogni volta che io finisco C'è una pubblicità Come qualche orteacher Inizio Allora ragazzi Ora c'è anche questa serie Solo che Il problema è uno solo Mangiatore di lucertole Che serve un armi di lucertole Potenzia! Si, ci mettiamo tre ore Allora Ma quanto Allora ragazzi Iniziamo canna No, devo attendere C'è qualcosa Ecco, infatti Devo attendere Sì, vabbè Li conoscevo mai tutti Quasi tutti Papà, sono al verde E non serviva No, ma quante cose Mi davo potenziale Vabbè, ragazzi Io non potremmo direi Di perdere le missioni Perché Se no la vedo piuttosto Butta Questo è il livello 12 Come potete vedere Più voi Superate le missioni Più il livello avanza Quindi No, per uno Dove non ci siano Un mutabusauro Con un colpo polmone Un mutabusauro Un mutabusauro Un mutabusauro Con un colpo polmone Veramente Oh, mamma Vabbè, questo qui È il vivo Non attacca, è sicuro Vabbè, prendi Le colpe ferme Dove è Prima di tutto Ah Buonanotte Ma dove ti siamo messi? Allora, se Io devo attivare Eh sì Gli infrarossi Ora I polmoni Non ho colpito i polmoni È giamine No Adesso come faccio? Vabbè Abbandoniamo la missione Visto che Quando scappa Quel coso È finita Perché poi Non si può Prendere la mira giusta Però No Io ce la fare One time offer No Lo so che è molto impegnativa Però Io ce la voglio fare Poi quella costa troppo Magari Non la puoi comprare Ti servono i big money Dov'è? Ah Quanti? Mmm Allora prendere Questo No Quello lì Che è girato più Tipo quello Che tipo Ma sta mangiando l'erba Avviciniamo Oh ma va più veloce Vediamo E i polmoni eh Oh È così che si va Tutti in un'anter Vedete? Polmone Li riconoscete a primo colpo I polmoni Perché Stanno qui Stanno proprio Nella parte Poi si vedono Con gli infarossi E poi Dove vedete il cuore Che batte Lateralmente Ci sono i polmoni Cioè Tutti Che dinosauri C'era Dove non respirare Che antosa Ma chi sono i catosauri Un momento Ehm Poi si mi sa che attaccano Sono feroci E ci vuole una missione così Però Ci vuole una missione così E' vero sono Carnivori e erbivori Ah no Sono erbivori Però Attaccano Quindi He he Siamo raffiniti No Questi qui attaccano Diamine Diamine Poi conquista No 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 Ecco ancora Poi non è Ah si E' morto Però Guarda adesso Quelli mi arrivano Ah no Forse no O forse si No 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 Mi stanno per attaccare Non sono sicuro No C'è pure un carnivoro No 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 Ma vaia Si però non è valido Se c'è pure qualcosa Ecco Ecco Un'altra pubblicità Io non le voglio pubblicità Quando registro Vabbè Ragazzi Aspetta che chiudo così Gioco così Non esco subito Non lo so Incidentelo voi Come sto gioco Mettete Mi piace Per oggi è tutto Mettete mi piace Iscrivetevi E ci vediamo Nel prossimo video Ciao